Salve a tutti, Samsung ha presentato da poco i due nuovi smartphone top di gamma che si piegano, questa è la particolarità, si chiamano Z Fold 3 e Z Flip 3, noi abbiamo con Andrea Nepori che qui vi abbiamo già presentati e questa è la prima volta che ci mettiamo le mani su. Ciao Andrea intanto, benvenuto. Ciao Bruno, ben trovato. Quindi vi faremo vedere un po' come funzionano, come sono fatti, non è una vera recensione ma è una prima prova. Andrea tu hai delle curiosità che ti sono rimaste dopo la presentazione. Sì sì, assolutamente, volevo capire appunto se questa resistenza che Samsung ci ha raccontato ieri, questi nuovi materiali si notano e poi volevo capire com'è il primo impatto nell'uso soprattutto anche delle applicazioni. Poi sono curioso di questo nuovo schermo esterno che è migliorato, è quattro volte più grande del precedente, voglio capire se effettivamente... Vediamoli dai, vediamo. Allora, noi li vediamo così e adesso li vediamo insieme a Bruno mentre noi ve li raccontiamo e li scopriamo insieme a voi. In questo caso questo è ovviamente lo Z Flip 3, quindi il... Questo è lo Z Flip 3 che è relativamente piccolo, tascabile. Ecco, una dimensione anche interessante, esatto. Sì, è una dimensione interessante che è all'incirca quello di uno smartphone normale da aperto e che però chiuso si piega in due, quindi è circa la metà ma è anche naturalmente il doppio dello spessore. Quando è aperto è 6,7 pollici se non sbaglio, no? Quindi più o meno uno smartphone di grandi dimensioni. Come lo trovi quando è aperto? È più spesso? No, ha uno spessore ragionevole, diciamo, è nella linea della maggior parte degli smartphone attuali. Quello che non ha, che però secondo me ha un vantaggio, è il comparto fotografico, che di solito è molto sporgente, quindi c'è praticamente il filo con il resto. Quindi diciamo, da un punto di vista di design c'è stata una ricerca molto attenta, devo dire. In effetti è rifinito molto bene, è solido. Vedete, questa è la parte della cerniera, che è quella progettata secondo Samsung per aprirsi e chiudersi senza danni fino a 200.000 volte, quindi veramente tantissimo. È una parte che a me sembra molto robusta, anche se, ovviamente per non piegare del tutto il display, si vede che qui è un pochino più sottile, qua è un pochino più spesso, in modo che la piegatura non sia veramente a 180.000. Quindi contribuisce allo spessore totale. Te lo chiedo subito, com'è in tasca? Perché l'idea di fondo è, questo te lo metti in tasca e occupa meno spazio di un cellulare normale, no? O di uno smartphone normale. Dipendono naturalmente dalle tasche, ecco. Avendo dei jeans, ecco, probabilmente non è il telefono che io terrei nella tasca posteriore dei pantaloni, se penso di sedermici sopra, soprattutto. Certo, chiarissimo. Quindi immagino, tra l'altro immagino per esempio che vada molto bene per chi ha una borsa o una borsetta. Ah, certo. Lo stai sbloccando? È un po' una truzza, no? Ci hai fatto caso, Andrea. È vero, è vero. Un po' un portatrucco. Ho notato che lo stavi facendo in automatico, lo sblocchi con un tasto laterale, no? Perché il tasto di impronta, il... Esatto. Il sensore di impronta digitale è qui. Perfetto. E ce lo stai facendo vedere mentre è piegato. Ci fai vedere l'interfaccia? Sono curioso di vedere come vanno le icone per capire soprattutto il punto in cui lo schermo si piega, no? Ecco. È un punto relativamente, fra virgolette, morto, no? Perché in quel punto lì lo schermo ha meno sensibilità, però vedo che si piega dove non ci sono in questo caso icone, quindi... Nella disposizione standard, infatti, non ci sono icone nel punto in cui lo schermo si piega. Va anche detto che, insomma, non molti lo useranno così. Certo. Quando invece è il caso di usarlo piegato, con ogni probabilità vorrà dire che noi stiamo usando l'alto. Ah, ecco. Questa è la modalità flex panel, no? La chiama Samsung. Quindi ha i comandi sotto e l'immagine, in questo caso, nella metà superiore dello schermo. Esatto, perché è una cosa molto sensata per quello che mi riguarda e neanche tanto per scattare le foto, se vogliamo, quanto soprattutto se abbiamo intenzione di tenerlo fermo su una superficie tipo un tavolo, come in questo caso, e magari fare una videochiamata. Anche perché quello che forse non si è capito bene è che l'inclinazione è libera. Un po' variante. Non c'è uno scatto a 90 gradi, ma in realtà possiamo scegliere noi il punto in cui fermare lo schermo. E invece da questa visualizzazione puoi andare con un'anteprima, per dire, sullo schermo esterno. So che il cover screen esterno si può utilizzare anche per vedere l'immagine, no? Sì, guarda, abbiamo studiato un po' nel poco tempo che ho il telefono, ma ho capito che è questo. Questo quadrativo... C'è un tasto dedicato. Ah, ok. E cosa succede? C'è un tasto dedicato. Quando è giallo succede questo. Cioè... Ah, ok. La telecamera, se non sono due, ma in realtà, riprende e si vede tutto nello schermo esterno. In questo modo qua, per esempio, i sales... Sono sempre centrati. ...da fare, si possono fare anche appunto con lo schermo chiuso. Ma lo schermo esterno può fare anche altre cose, no? Ecco qua, sì, infatti. Quando è bloccato e non succede niente, lo schermo è questo qua, fa vedere l'ora e poco più. Si può configurare con un qualsiasi display always on, no? Secondo le modalità di Android, quindi per dire può anche dimostrare che musica suona. Quando però si sblocca, intanto diventa di un altro colore, in questo caso qui l'orario. Può notare anche la raffinatezza del colore, che qui è un po' giallino, che è la stessa colorazione crema del display. Ah, ok. È in tono. Esatto, tono per tono. E quindi poi lo sblocchi e... Una volta sbloccato si possono, per esempio, vedere le notifiche e continuando a girarlo... Sono delle widgets. Controllare la rivoluzione musicale, la sveglia, il registratore vocale, il timer e altri widget che si possono poi aggiungere. Tue impressioni generali per chiudere questo primo hands-on sul Galaxy Z Flip 3? È un apprezzo molto divertente, sì. Devo dire che è una di quelle cose che fanno scattare il desiderio di possesso, direbbe. Faccelo vedere ancora un po' intorno, quello che fu pre-alissandrino, secondo il maestro. Esatto. Va detto che però è un desiderio di possesso che va configurato un po' con le reali esigenze che uno ha da un telefono. Se si vuole un telefono molto bello da vedere, curato nei dettagli, che abbia una sua particolarità, perché poi non dimentichiamoci, di pieghevoli ce n'è più di uno, ma di pieghevoli così, a conchiglia, che piccoli diventano così piccoli, ce ne sono solo due. Uno è quello di Samsung e l'altro è di Motorola, la reedizione del Razer. Quindi c'è soprattutto un elemento di stile che in questo momento mi pare vincente, mi pare la scelta, forse il motivo, diciamo, che può spingere alla scelta. A parte questo, il telefono in realtà funziona, mi sembra bene, intanto ha il 5G, come tutti i telefoni di fascia media e medio alta usciti di recente, a un processore Snapdragon che è, mi sembra, potente. Non siamo in grado di dire in questo momento quanto dura la batteria, per cui, insomma, ci riserviamo una prova più approfondita. Torneremo con la recensione, ovviamente, più avanti, su Italian Tech. Però ecco, l'impressione positiva iniziale, direi che il miglioramento rispetto alla versione precedente, tu puoi dire che si vede? Ma io avevo provato anche, appunto, la versione precedente. Questo qua è un passo avanti, è molto simile, proviamo intanto di questo, è un passo avanti, sembra più solido, Samsung stessa, peraltro, dice che è impermeabile, noi è una prova, diciamo, che non saremo. Se non l'hai ancora provata questa cosa. Ci fidiamo, diciamo che è impermeabile anche noi, per cui, sì, diciamo, quello che si vede, diciamo, rispetto al modello precedente è che qua non c'è veramente nessun compromesso sulle prestazioni. Dicevamo che il processore è buono, a me sembra reattivo, e poi, appunto, quello che vince è sicuramente il fattore del design, sicuramente il fatto che è un apparecchio divertente, originale. E poi ricordiamo anche, no, il prezzo che per la prima volta scende a livelli da flagship normale, no, dal telefono di fascia alta normale, costa meno di certi iPhone Pro Max, se vogliamo, e anche di altri Samsung, no? Anche per i Samsung medesimi, no? Esatto, quindi... Quindi per la prima volta si può dire che è una scelta quasi pari quella tra comprare un telefono pieghevole e un telefono che non si piega.